L'Ape musicale, vagabondando tra le sette note. L'Ape musicale di oggi rimane a Roma per un concerto però del respiro sicuramente internazionale. All'Auditorium Parco della Musica, nel Teatro Studio Borgna, la Fabbrica del Nulla, ne parliamo con Massimo Buffetti che è compositore e interprete del gruppo. E allora intanto come nasce questo progetto? Perché di progetto si tratta, non è un semplice gruppo. Sì, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori. Il progetto nasce come progetto discografico con quelle che allora erano le edizioni di Rai Trade, periodo durante il quale mi fu richiesto di scrivere delle musiche per argomenti attuali di allora. Per l'appunto era il periodo in cui era successo un grave incidente sul lavoro in una fabbrica tra l'altro non italiana ma in Italia con conseguenze abbastanza pesanti. Fu sollevato questo aspetto legato un po' al sociale. Da lì abbiamo continuato con i musicisti con i quali collaboro, abbiamo poi cominciato a costruire delle musiche e ne è nato un CD che poi appunto è stato pubblicato da quella che allora era Rai Trade, oggi Rai Con, e da lì poi sono venuti fuori i concerti. Maestro Buffetti, si parlava di fabbrica del nulla experience perché leggo da una recensione si tratta di una fusione di generi musicali e immagini che diventano azione di musica strumentale, quindi un concerto non in senso tradizionale ma un qualcosa in più. Sono musiche che nascono per commentare delle immagini molto semplicemente, quindi con un uso, musiche d'uso se vogliamo, sulle quali poi noi dal vivo però interveniamo con delle improvvisazioni e ampliamo un pochino quello che è il progetto originale, quindi da strutture ben definite ci lasciamo trasportare invece in aree molto meno definite, quindi più legate appunto come dicevo all'improvvisazione, magari manipolando insieme agli altri musicisti del gruppo che sono ovviamente parte fondamentale del progetto, ci divertiamo un pochino a spaziare in quelli che sono poi linguaggi altri, ciascuno proviene da aree musicali diverse e cerchiamo di trovare un punto di incontro che poi è anche un po' diciamo forse il divertimento tra virgolette di questo progetto almeno per quanto riguarda noi musicisti. E allora presentiamoli questi musicisti, oltre a Massimo Buffetti al pianoforte, oltre che alla composizione evidentemente, abbiamo Stefano Agostini ai flauti, Carlo Failli ai clarinetti e Luca Guidi alla chitarra. Ma come detto non finisce qui perché c'è poi una parte video e un progetto live del suono che ha bisogno di altrettanti autori e altrettanti aiuti come Rob Nigro, progetto del suono, Tiziana Draghi, scene e video, Paolo Barcucci, live sound. Maestro Buffetti, abbiamo dimenticato qualcuno? No, anzi li abbiamo citati perché sono effettivamente parte integrante del gruppo, anche loro, in quanto dal vivo noi utilizziamo anche una parte diciamo legata all'elettronica tramite essenzialmente uno strumento che viene suonato da Carlo Failli, appunto il clarinettista, che si chiama Windy Instrument, dove appunto abbiamo diciamo campionato alcuni suoni che noi avevamo utilizzato nel disco in modo da poter utilizzare questi suoni anche dal vivo attraverso appunto l'utilizzo di questo strumento. Un altro elemento che utilizziamo è una diciamo una scatola digitale che si chiama X-PAT che ci consente di riprodurre parte dei suoni che utilizziamo con un minimo di spazzalizzazione del suono e questo ovviamente dipende anche dalla possibilità di ricezione della sala in cui suoniamo e quindi dal tipo di impianto che possiamo utilizzare via discorrente. Per cui Rob Nigro è importante perché ha un po' progettato quello di cui stavo appena parlato e poi ovviamente c'è la parte live relativa invece a Paolo Barcucci. Per quanto riguarda le scene, lo spettacolo è nato appunto con una scenografia essenziale legata al nome di Tiziana Draghi e ultimamente i video che utilizziamo sono anche loro opera della scenografa mentre inizialmente il lavoro era partito con gli altri videomaker che avevano appositamente creato questi lavori che vengono ancora in parte utilizzati, tra cui cito Gianmarco D'Agostino, Giovanni De Stefano e Alessandro Alecini. Così abbiamo completato il quadro delle persone. Maestro Buffetti, prima di ascoltare un estratto dal vostro ultimo CD intitolato Ricercare, mi interessa una cosa. Lei è pianista e compositore. Ecco, si tratta di una dimensione, questa dell'esecutore-compositore, sempre meno frequente eppure si tratta di una cosa che è stata normale nella storia della musica. Oggigiorno, qual è la differenza di essere compositore, tra virgolette, puro e esecutore-compositore? Per dire qual è la differenza dovrei essere capace di scrivere della musica senza suonarla, cosa che francamente trovo piuttosto difficile, ma lo dico come un limite per quanto mi riguarda. Però penso che comunque uno dovrebbe essere, un compositore dovrebbe essere in grado di scrivere la musica suonandola nella propria mente, diciamo così, come a volte viene un po' fatto vedere anche in film che riportano la vita di compositori famosi del passato. Questo non sempre è così facile. Se uno fosse in grado di farlo, ma realmente magari potrebbe non avere assolutamente bisogno di suonare. Diciamo che il fatto di suonare può essere d'aiuto e può anche però aiutare a sviluppare o a integrare tutta una serie di percezioni, anche tattiche se vogliamo, oppure legate però dallo strumento che il compositore suona, nel mio caso pianoforte, che possono così aiutare nel completare un po' l'idea di partenza. Insomma, a volte anche dare un incipit per certe scelte compositive. Sì. raus. Oh. Ah. Ah. You've made that. Ah. Uh. Ah. 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 One. Oh. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.